guarda riporta qui perdono il possesso del pallone l'uscita del portiere che salva tutto guarda qui la lettura del difensore gran botta che per poco non finiva dentro pallone che ha sfiorato in palo è uscito davvero tu niente Richardson palla che esce e sarà a palo laterale pallone che torna agli avversari avviso per il genitore premia la corsa sulla fascia la letta sulla corsa del compagno palo attenzione però è ancora buona buono questo passaggio recuperano palla Richardson occhio al cross palla gol questa palla sul palo attenzione ancora in gioco se la fortuna gli avesse assistiti avrebbero potuto portarsi a più due gestire il risultato senza necessità di attaccare non devono pensare a quanto è successo alzano il pressing palla persa tira il respinto dal difensore apre sulla fascia scelta il tiro buona la parata in presa da parte del portiere fondamentale il difensore pallone invitante l'antissimo sull'attaccante occhio all'errore del portiere e c'è la conclusione e c'è un gol che rischia di affossare definitivamente le loro speranze promozioni hanno lavorato tutta la stagione per centrare questo obiettivo sarebbe un vero peccato oltre che una beffa e dello sfumare proprio all'ultima giornata lancio profondo interessante palla girata sulla corsia grande recupero in area buona qui la lettura del difensore occhio alla ripartenza si libera a spazio contropiede da manuale e pallone in rete hanno sfruttato dov'era una delle loro armi migliori il punteggio adesso è di 2 a 1 ci sono metri a disposizione palla riconsegnata agli avversari passaggio intercettato non può sbagliare puntuale qui il difensore che sventa la minaccia non riescono a tenerla errore del portiere sul rinvio attenzione e il pallone entra ed è gol le loro speranze di promozione sembrano davvero appese a un filo serve un pari molto difficile da ottenere siamo appena nelle prime fasi della gara dunque tutto ancora può succedere anche se non è certo l'inizio che spera male buono il cross a te conclusione debole portiere che non ha avuto problemi a bloccare peccato ha sprecato malamente da pochi passi ha risolto una situazione complessa pallone che torna agli avversari vediamo cosa fa ora un'entrata decisa efficace un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo prosegue qui dell'avanzata ecco il gol hanno bisogno di un miracolo per rimontare per ottenere almeno il pareggio che garantirebbe la promozione aritmetica vedremo cosa accadrà se volevano complicarsi la vita beh ci sono riusciti questa è una squadra capace di tutto sia di subire più golli in pochi minuti sia di rimontare uno svantaggio come questo faranno bene a svegliarsi alla svelta arbitro che dice che può bastare quattro partita finora a senso unico vediamo se il secondo tempo cambierà il canovaccio della gara intercettano bene i palloni occhio al pallone filtrante bravo il portiere a dire di no c'è la rimessa con le mani attenzione murato dall'intervento del difensore la rimette in mezzo grande intervento del portiere questa è una parata che vale come un gol sembrava battuto ma come ha fatto ad arrivarci pazzesco deviazione di testa che sorvola di poco la traversa ci è andato vicino question di centimetri attenzione perché è pericoloso la mette in mezzo ha evitato guai